Un bar a conduzione familiare è una delle particolarità di questa rassegna delle sagre 2017 e questa è la famiglia Alberti e la portavoce in questo caso è stata nominata per la sua gioia Aurora. Allora Aurora, raccontaci come nasce l'idea di questa gestione familiare del bar. Noi sin da quando ero piccola siamo sempre venuti qua alla festa perché ci divertiamo e ci fa piacere stare in mezzo alla gente ed è per questo che tutta la nostra famiglia ogni anno partecipa a questa rassegna delle sagre. Sempre al bar oppure vi siete occupati anche di altre cose? Siamo sempre al bar e da sempre e con noi c'è anche nostra zia e il mio cugino piccolo che ormai anche lui da quando è nato viene qua anche lui. Siete un po' in una zona centrale quindi sicuramente c'è grande afflusso, siete un po' l'accoglienza in qualche modo di tutto il pubblico di San Sistro. Sì, diciamo che ci proviamo ed è sempre molto piacere cercare di aiutare le persone nel muoversi in questa festa e ci divertiamo molto. Avete qualche specialità particolare per questa edizione 2017 oppure siamo nelle classiche offerte del bar? Nelle classiche offerte del bar anzi abbiamo anche eliminato qualcosa perché non si può più vendere alcolici qui e quindi diciamo che di solito abbiamo sempre le solite cose, esatto, solo diminuita, ne aumentata sicuro. Bene, quindi qualche particolarità dovuta alle normative un po' più stringenti, però sempre grande passione, un modo per stare insieme, anche il vostro, di dare un contributo importante alla riuscita di questa festa. Sì, ci proviamo e speriamo di riuscirci nel miglior modo possibile.